Ciao, sono Irene Merlo, Master Crystal Nails. Oggi vorrei illustrarvi la collezione dei costruttori Crystal Nails. Andiamo a scoprirle insieme. Crystal Nails offre una vastissima scelta di costruttori in grado di accontentare le unicotecniche più esigenti e le unghie più difficili. Possiamo suddividere i nostri costruttori tra pinzabili e non pinzabili, oppure farne una distinzione più generica in base alla colorazione. Abbiamo infatti collezioni complete di costruttori clear, oppure rosati trasparenti, oppure rosati per camouflage, oppure bianchi più o meno coprenti. Tra i costruttori Crystal Nails possiamo trovare prodotti estremamente facili da lavorare in salone, da usare quando abbiamo bisogno di acquisire velocità. Abbiamo diversi costruttori adatti quindi al refill o all'esecuzione di semplici coperture. Possiamo trovare per ogni colorazione sia varianti più morbide e automodellanti, sia costruttori di media o alta viscosità per le lavorazioni di precisione. Possiamo dire di essere in grado di offrire il massimo alle nostre unicotecniche, con la massima qualità e la massima scelta possibile. Vi invito ad andare a vedere i tutorial delle mie colleghe riguardo ai vari costruttori disponibili a catalogo. A presto!